Il restauro, eseguito dall'officina centrale ATM nel 1976, è quasi soltanto estetico, poiché il tram era funzionante e ancora allo stato originale, ossia non trasformato nella struttura come era successa alle sabiere e alle mole binari. Comunque, l'ATM dichiara una spesa di 4 milioni di lira per il restauro. Ormai sono ammesse le eccezioni all'imposizione ministeriale del 1929 che vorrebbero i tram di quel colore verde dell'insalata di aprile. Così ritorna al rosso sfacciato di un tempo. E proprio un giovedì dell'aprile 1976, ben 65 anni dopo la sua costruzione, la 116 viene consegnata alle autorità scolastiche in Piazza Adriano, alla presenza delle autorità cittadine e dell'ATM. Nella tabella reca scritto Tram dei ragazzi, ma in tanti lo conosceranno come Tram di De Amicis, come riporta il giorno seguente la cronaca della stampa. Il tram resta quello delle scuole, fino alla fine del millennio. Nel 1998 la nostra 116 viene nuovamente restaurata in un'ufficina specializzata a Moretta, in provincia di Cunio. Tuttavia gli impegni si diradano sempre di più. Così la 116 va ammestamente in pensione, nella rinnovata stazione di Sassi, sotto la tettoia che copre gli ultimi metri del binario da Superga. Le nuove norme di sicurezza, infatti, impongono pesanti modifiche al mezzo e nessuno se la sente di intervenire su un esemplare che ormai è rimasto l'ultimo della sua specie. Quando nel 2005 nasce l'associazione torinese Tram Storici, uno dei suoi primi obiettivi è proprio il riportare in funzione la storica 116. Bisogna però adeguarla alle nuove norme di sicurezza, la più severa delle quali porta ad eliminare l'intero banco di manovra posteriore. La 116 era da sempre bidirezionale e con doppia cabina di guida. La scelta quindi è dolorosa, ma è anche l'unica soluzione per vederlo ancora in servizio. L'intera carrozza viene revisionata e si procede a nascondere una parte dei comandi dietro una parete posteriore. Pienamente aggiornato nella sicurezza, il Tram riprende servizio come vettura storica a quasi un secolo dalla sua emissione in servizio. La 116 è stata dotata di una tabella grafica, fedelmente riprodotta, della storica linea 10 Crocetta-Reggio Parco, una delle linee su cui questo tram prestò servizio a lungo. Sono tanti i dettagli riprodotti dai soci ATTS, le targhe smaltate interne che si erano perse nel corso degli anni. Il faro sull'imperiale per l'illuminazione notturna della tabella di linea, oltre a tantissimi piccoli interventi di ordinaria manutenzione. A chi domanda se questo tram, il più antico funzionante in Italia, andrebbe conservato in un museo, è facile a rispondere. Nessuna didascalia potrebbe mai trasmettere così tante sensazioni come la possibilità di sedersi a bordo e lasciarsi trasportare, mentre la 116 gira per le strade di Torino spavalda come un secolo fa.